La mia passione per il presepe nasce da bambino sicuramente, perché ricordo benissimo che ovunque andavo, con i miei genitori o parenti, mi fermavo, mi incantavo letteralmente a vedere i presepi di qualunque genere, per me erano tutti belli e questa cosa l'ho conservata nel tempo, anche oggi che faccio dei pezzi di un certo spessore, quando qualcuno mi manda delle foto per scherzo, io gli dico ma guarda che anche questo è bello, perché comunque in ogni presepe c'è qualcosa di bello, se pensi che una persona si ferma, perde del suo tempo, mette la sua fantasia e la sua idea di natività, già questo ti dà il senso di bellezza insomma. Poi in realtà la mia perfezione in questa cosa, il mio perfezionarmi in questa cosa nasce da alcune mostre che fanno nella nostra città a Foggia, nel periodo natalizio, che in maniera ricorrente ogni anno andavo a vedere. Finché un anno mi sono iscritto, c'era la, mi ricordo bene il cartello, se vuoi imparare a fare presepi, mi sono iscritto e ho fatto il primo corso, quello base. Da quel giorno poi è stata un'escalation, perché ho fatto e faccio una serie di corsi, oggi addirittura vado a fare dei corsi con dei maestri a livello internazionale, che appunto portano il presepe in tutta Europa. Devo dire che in Capitanata c'è un grosso movimento, spesso si sente parlare del presepe napoletano, quindi come un po' per la pizza si pensa che Napoli sia la patria, così per il presepe si pensa che Napoli sia la patria. Ma in Capitanata ci sono dei bei movimenti, ci sono delle belle associazioni, ci sono dei grossi maestri, dei grossi presepisti che, avendoli conosciuti, so per certo insomma che i loro pezzi sono in svariate città europee e non solo, anche fuori dall'Europa, quindi vuol dire che il movimento è vivo e sicuramente di qualità. Da bambino a casa, abbiamo sempre fatto il presepe. Ricordo che veniva una mia zia a casa ad aiutarci perché avendo un ingresso grande a casa di mia madre, mio padre faceva una struttura in legno, ma ti posso dire a dimensioni di due metri per uno e mezzo probabilmente, sul quale andavamo a fare il presepe con questa mia zia, io e lei. Quindi io ero l'addetto della famiglia. Però era il presepe quello classico con le carte della montagna, con il muschio insomma che trovi in qualsiasi negozio di oggettistica. Invece tornando ad oggi o arrivando ad oggi si usano dei materiali completamente diversi. oggi il presepe che realizzo viene fatto con materiali tipici proprio dell'edilizia, quindi la malta, quindi il cemento rapido, il fugante. Voglio dire, a questo si è arrivato come dicevo attraverso una passione nata da bambino, sicuramente una passione trasmessa da questa mia zia che aveva il piacere di fare ogni anno il presepe con me a casa mia. Premetto che per me come ho detto i presepi sono tutti belli, non solo i miei. Io ogni volta che faccio un presepe l'ultimo è sempre il più bello. Mi capita questo. Però se devo andare un po' a vedere nella mia, nella mia diciamo galleria, ce n'è uno al quale sono particolarmente legato che ho fatto per il Natale 2020 per la chiesa di Madonna della Libera a Macchia, località Macchia, quindi mattinata in provincia di Foggia, che oggi è esposto nella chiesa appunto di Madonna della Libera. Me l'ha commissionato padre Alfredo, il padre che appunto si occupa di quella parrocchia e diciamo che a quello sono particolarmente legato perché non lo so, mi ha colpito di più. Pensa che è nato in questo modo. Padre Alfredo mi contattò per fare un piccolo presepe a casa sua, su un mobiletto, andai, vedi doveva farlo, prendemmo accordi. Uscendo di casa mi sono visto questa piazza di Madonna della Libera che mi ha subito colpito, ho detto bellissima, sarebbe bello fare un presepe qui. E lì è nata l'idea di fare un presepe ambientato in quella località di Macchia. Quindi ho riprodotto quella località, l'ho invecchiata, l'ho portata indietro un po' negli anni e appunto ho fatto la natività su quella piazza che è veramente particolare. È per misure, è per proprio architettonico, per una questione architettonica, ecco diciamo così. Il presepe che oggi realizzo nasce da un elemento imprescindibile, sicuramente il più importante, che è questo. Si chiama polistirene estruso. Praticamente questo viene tagliato nelle misure, nelle forme che vuoi e realizzi la struttura in polistirene. Poi questa viene modellata, ingessata, intonacata, colorata e alla fine anche invecchiata. Voglio dire una cosa, il polistirene è diverso dal polistirolo, non è quello che lo rompi e fa le palline, ma è un materiale che se lo vai a schiacciare conserva la memoria della forma che gli dai. Questo è molto importante per poi realizzare questi mattoncini che vengono appunto applicati uno per uno. Quindi in tutti i miei lavori qualunque mattone si possa vedere anche da quelli più nascosti, vengono realizzati e applicati uno per uno, oltre che colorati e invecchiati. Quando comincio a fare un presepe parto dall'immaginare dove lo voglio ambientare. Quindi già da mesi prima mi trovo in giro, vedo un casolare che mi intriga, ho un albero particolare, io me lo fotografo perché poi da questi elementi messi insieme vado a sviluppare il progetto. Un arco particolare, un balcone rotto, perché appunto mi servono tanti elementi per sviluppare il progetto. Partendo dal progetto poi si va a mettere in pratica quindi la realizzazione della struttura e poi ci sono svariati passaggi che ti portano a questo lavoro finale. La parte più importante per me del presepe è poi, forse scontato dirlo, la natività che io provo a realizzare sempre in maniera aperta, cioè evito di mettergli porte, finestre dove devi vedere attraverso, perché comunque deve essere la parte centrale. Quasi sempre è illuminata da una luce bianca che dovrebbe rappresentare il momento dell'arrivo della gloria. Un'altra cosa che ci tengo a dire, mi piace migliorare volta per volta la tecnica per rendere sempre più realistico il pezzo. Ecco il perché la mia necessità di dover fare sempre corsi di aggiornamento, dove è inutile dire, non è che in un corso non può imparare tutto, ma ci sono svariati, svariate sezioni con maestri diversi nel settore specifico. Per esempio ci sono dei maestri specializzati nella realizzazione della vegetazione, quindi un ulivo. Infatti il mio, la mia natività più particolare che ho realizzato è stato un semplice ulivo senza struttura muraria, un semplice ulivo gigantesco secolare, tipico delle nostre zone del Gargano, sotto il quale ho ambientato la natività con una Madonna sdraiata e Giuseppe che riscaldava il bambinello. Se posso permettermi, il mio invito è quello di fare il presepe in tutte le case. Oggi io mi rendo conto che i tempi sono veramente ristretti per fare tutto, ma basti pensare che questo non è il mio lavoro, io faccio ben altro nella vita. Questo è un hobby che faccio a tempo perso, eppure riesco a trovare il tempo per poterne fare uno, due, tre o più pezzi durante questo periodo. Quindi sono sicuro che tutti possiamo avere il tempo per fare un presepe. Spesso vedo nelle case l'albero di Natale, ma manca il presepe. Per mio parere personale l'albero è una cosa più pagana, mentre la natività, anche solo la natività, non dico chissà quale grande presepe, è la rappresentazione proprio della nascita appunto di Gesù. Quindi il mio invito è quello, se dovessi scegliere tra fare l'albero e il presepe, io sceglierei sempre il presepe. Poi la cosa bella è che quando vai a realizzare un presepe non devi essere per forza un professionista, mentre lo realizzi, con la mente vai indietro, vai perché dici questo dove lo metto, questo come lo posizioni, quindi vai a immaginare come erano quei giorni, in quell'epoca, appunto durante la natività di Gesù. Allora voglio dire, se vogliamo vivere dei momenti spensierati, quello di realizzare il presepe potrebbe essere il momento giusto. Detto questo vi faccio i miei migliori auguri per questo Natale 2020, sicuramente è stato un anno particolare, ma sarà un Natale bellissimo come tutti gli anni.